Aveva cercato riparo sotto un camion, spaventato, ferito e affamato. La neve è un pericolo anche per gli animali selvatici. Il capriolo è stato addormentato, come potete vedere, ha una benda sugli occhi per ripararlo dalla luce del sole e le zampe legate perché se si dovesse svegliare all'improvviso sarebbe pericoloso perché comincerebbe a scalciare. Una bella ferita, insomma, si è tagliata con un cavetto d'acciaio. Con questo freddo comunque cercano di ripararsi, comunque vanno a cercare il cibo dove possono, quindi si incastrano anche in mezzo agli edifici, insomma, un po' ovunque. E adesso aspettiamo che si sveglia. Ecco, in questo momento lo stanno riportando verso quella che per lui sarà la sua libertà. Anche al canile il peggio sembra ormai alle spalle. Grazie all'aiuto di decine di volontari, le tettoie rinforzate hanno retto sotto il peso della neve. 20 persone si sono assieme ai volontari ordinari dell'APAS riunite per sbadilare, per pulire le tettoie, per metterle in sicurezza. Io qui, quindi, indubbiamente a nome dell'associazione, desidero ringraziare tutti coloro, i cittadini che hanno accolto il nostro appello e anche in particolare i volontari che non hanno abbandonato mai un momento la struttura e gli animali. È un ringraziamento particolare a tutti i volontari, lo vuole dare il portavoce del canile, Alfio. Grazie a tutti!